Raga abbiamo sbancato E ragazzi grazie al prossimo video Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video In compagnia di Dani Devi sempre illuminare di me Stavo pensando al mio nome Valerio Oggi siamo tornati qui con un video Che a quanto pare è stato portato da pochissimi in Italia Io Da lui e da Monte Che vi lascio l'altra parte del video Questa ho tenuto a schicci e mi raccomando passate Poi ragazzi sono il loro canale fallimentare Ve lo lascio in descrizione Passateci Oggi andiamo a grattare questi gratt e vinci qua Abbiamo sei gratt... no 5 scusate ma cosa ho portato 5 gratt e vinci a testa No grattateci ne 7 e noi ce ne abbiamo 6 1,2,3,5 Ma questo è il tuo 6 Ah 6 6 Raga io direi prima facciamo i portafortuni se voli più sfigati E poi quelli che vincono sempre Se ne avete 5 io sono 6 Dai ragazzi Vai chi vince il più vince lo schiaffo 7,4,5,2 Sì bella per te Eh ho vinto un euro ragazzi Ho vinto un euro Ok Ma Dani ha rotto il cazzo Mamma mia c'ho un culo fantastico Niente pure questo Addio fallimentare 3,5 2 euro Mamma mia io e Dani ci stiamo a fare i fai soldi Mamma mia Ok raga questo hai vinto Niente Un euro va Vabbè un euro è un euro Se questo ho fatto 4 e il banca ha fatto 7 Ok Oh comunque i portafortuna sono veramente vicina Stiamo facendo però Ok raga io ho appena grattato tutti i portafortuna Adesso passiamo ai 7,5 che sono Ah io ho grattato tutti Io ho grattato tutti tutti Raga io sono fallito L'ho vinto ancora Grazie i tuoi No aspetta 2 euro Yeee Ho vinto 2 euro 4,5 2 Ultimo Questo è l'ultimo che c'ho io Raga questa l'ho vinta Questa l'ho vinta Questa l'ho vinta Vediamo 40 euro 40 euro 40 euro Guardate che cazzo di sceglie No 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 40 euro 30 euro 40 euro 40 euro 40 euro 40 euro 40 euro 40 euro Che verazione No Non ci credo 40 euro aspetta è vero no? 4 e mezzo questo 5 più 2 parte di 4 no regà lui ha fatto 7 e mezzo il banco 4 abbiamo vinto 40 non ci ha fatto non ci ha fatto finito regà no vabbè eh regà manca un altro eh lo faccio io faccio il tipo allora sei fortunato vai vai allora il banco è 6 e mezzo aspetta ragazzi 6 e mezzo 2 e mezzo no no regà immagina 6 e mezzo 40 no regà 40 euro no zii regà abbiamo sbancato regà che top comunque con questo video volevo anche dirvi ragazzi di non fare quello che abbiamo fatto noi di tipo spendere miliardi per comprare dei gratte vinci regà perché al 300% se perde questa è stata una fortuna regà che chi caspita che vince 40 euro no infatti regà non fatelo non fatelo non comprate sti gratte vinci regà che vedete quanti ne avevo buttati però c'è probabilmente alla fine è capitato uno fortunato tra tutti questi quindi non giocate completamente comunque come monte ragazzi faremo una donazione insieme vi lascio qui sotto in descrizione il link del video di monte andatelo a vedere e tutti i soldi che abbiamo appunto vinto con questi gratte vinci li manderemo a qualcuno che ha più bisogno di noi appunto questi soldi anche perché ci siamo divertiti e tutto però famo un attimo i seri detto questo ragazzi vi lascio qui sotto in descrizione il link dei loro canali mi raccomando passateci e niente ragazzi ciao a me ciao belli ciao ragazzi ciao ora ti vanno a prendere i soldi ragazzi si